Nuove accuse per Yulia Timoshenko, l'ex premier ucraina già condannata a 7 anni per abuso d'ufficio e ora sotto processo per corruzione, verrà accusata anche di aver ordinato l'omicidio di un rivale in affari, Yefian Cherban, ucciso 16 anni fa. La Timoshenko sarebbe stata mandante dell'omicidio insieme a un altro ex premier, Pavlo Lazarenko.